La Bola del Perdono sarà oggetto di un intervento di restauro conservativo da parte dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico Libraio. Il documento, emanato da Papa Celestino V all'indomani della sua incoronazione il 29 agosto 1294, elargisce l'indulgenza penaria a tutti coloro che, sinceramente pentiti e confessati, si recano nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dai vesperi del 28 agosto a quelli del 29 e della base della celebrazione della perdonanza celestiniana. Fino al 6 aprile 2009 è stata conservata nella Torre Civica di Palazzo Margherita, sede della Residenza Municipale, ed in seguito custodita all'interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Come hanno spiegato gli esperti dell'Istituto che hanno effettuato un sopralluogo ricognitivo nel mese di marzo, la perdita del contenuto d'acqua della pergamena richiederà un intervento di idratazione ed un successivo tensionamento per consentire di mantenere la planarità del documento. Anche l'inchiostro si presenta attenuato a causa dell'indebolimento dell'egante che lo fissa al foglio. La pergamena, una volta reidratata e tensionata, verrà posizionata su un apposito supporto, dotato di caratteristiche che ne garantiranno un'adeguata conservazione, contrastando la tipica tendenza della pergamena a muoversi. Adattandosi alle variazioni di temperatura e di umidità ed evitando così possibili contrazioni, il restauro dovrebbe essere ultimato in primavera. Si tratta, ha spiegato il sindaco Cialente, di un documento antichissimo e prezioso che pertanto necessita di attenzioni, interventi e ritocchi. Un bene artistico e documentale che riveste un'importanza eccezionale anche sotto il profilo religioso e spirituale. Nella prossima edizione della perdonanza celestiniana, il nostro giubileo, potremo dunque presentare una bolla restaurata secondo le tecniche più efficaci e innovativi, migliorandone la conservazione e la leggibilità.